bentornati a tenete d'occhio questo ragazzo in realtà non era mia intenzione farne una rubrica mi ero inventato questo titolo per per ceknavorian per ceknavorian perché mi hanno non voglio dire ripreso ma spiegato insegnato che la pronuncia corretta non è ceknavorian ma ceknavorian quindi giusto dirlo come corretto e non pensavo che la cosa sarebbe diventata una rubrica dopodiché anche oggi vi parlo di un ragazzo a tenere d'occhio non so cosa succederà se dovessi vedere una ragazza però devo pensare a qualcosa detto questo oggi vi parlo di un altro ragazzo da tenere assolutamente d'occhio che è lodovico filippo ravizza con la correttezza e come dire sempre con la massima franchezza cosa sempre con voi vi dico che al contrario ceknavorian che non conosco assolutamente lodovico lo conosco lo conosco anche bene perché è un caro amico e quindi devo fare questa questa premessa perché qualcuno potrebbe pensare che il fatto che io sponsorizzi un mio amico potrebbe essere giustamente potrebbe giustamente dare adito a dei dubbi di opportunità o di legittimità o soprattutto di obiettività e di coerenza anche etica diciamo così chi mi conosce però sa bene che uno può essere mio amico finché vuole ma non direi mai che canta bene o che dirige bene o che fa una cosa bene se non è vero e non lo direi mai innanzitutto perché poi ne andrebbe della mia serietà e della mia credibilità perché io credo che nel microcosmo che mi sono creato su questo canale la gente apprezzi principalmente la mia franchezza e la mia e la mia spero obiettività e il mio essere scevro da pregiudizi per cui chi mi conosce anche personalmente sa bene che non farei un video come questo se non pensassi che ogni parola è meritata dal dal destinatario ludovico è un ragazzo veramente a tenere d'occhio perché è qualcosa di più di una promessa del canto lirico italiano perché ha 28 anni a 28 anni ha già debuttato in enti importanti se avete visto la scensione sull'isola di parma sapete che c'era anche lui quindi ne ho parlato anche in quella in quell'occasione poi già stato a bergamo è già stato macerata è stato il massimo di palermo ha già anche debuttato in scala ancorché con un ruolo minore decisamente di di comprimariato o piccolo nel senso un piccolo ruolo però per dire insomma è un ragazzo che ha 28 anni ha già debuttato in teatri decisamente importanti eppure io sono convinto che le potenzialità di questo di questo ragazzo siano veramente grandissime e attenzione perché in questo campo quando si parla di potenzialità spesso è un modo di dire non è ancora un granché ma io intravedo in lui delle cose no no qui non si tratta di potenzialità qui c'è proprio della ciccia della della carne del del merito indiscusso indiscutibile se no a quest'età non sarebbe già bazzicando i teatri che bazzico ormai già da più di un anno ormai ecco perché vi dico di tenere d'occhio perché è un ragazzo veramente dotato e molto in gamba allora lui ha proprio la classica vocalità verdiana il baritono verdiano pensiamo al conte di luna primo primo che mi viene in mente ma insomma qualunque altro ruolo verdiano ma anche donizzettiano ma anche mozzartiano cioè in realtà quando hai un timbro così bello una voce così importante che passa sempre abbondantemente e generosamente l'orchestra e soprattutto un legato così e puoi fare praticamente tutto il ruolo da baritono veramente da paesiello a puccini insomma lui ha fatto anche puccini ha fatto sharpness insomma ha già fatto tanti ruoli tanti insomma relativamente alla sua giovane età tanti ruoli baritonali insomma io sono convinto che che questo ragazzo possa andare veramente molto molto lontano e perché questo perché oltre alla voce veramente stentorea ha anche una bella presenza scenica e quindi insomma è anche come dire di bell'aspetto e questo ovviamente non potrà che che aiutarlo in più è un ottimo attore quindi è molto bravo e quindi è anche uno che in un ruolo mi sembra che abbia mai fatto Dulcamara ma sono convinto che se un domani facesse Dulcamara lo farebbe splendidamente o e farebbe molto bene qualunque ruolo dove delle spiccate qualità attoriali si devono accompagnare anche ovviamente alla vocalità ho detto Dulcamara perché in realtà è un ruolo che più d'attore che da cantante richiede più doti da attoriali che canore ma se poi in più uno c'ha anche una gran bella voce e beh insomma è tanta roba quindi voce verdiana voce bella legata pastosa elegante ma anche con un buon utilizzo dell'agilità dove dove sono richieste ora il rischio principale per lui e lo dico quasi più da amico che da commentatore è che non si sappia gestire in questa fase della carriera perché la fase della carriera in cui il telefono suona e tutti ti cercano e tutti ti vogliono le audizioni vanno tutte bene i direttori artisti sono tutti contenti ti chiamano e ti richiamano e quindi questa cosa comporta evidentemente tutto per un ragazzo giovane che insomma poi che ha studiato che si è impegnato tanto come come ha fatto lui comporta ovviamente una gratificazione dell'ego e questo è assolutamente umano io spero che lodovico abbia l'intelligenza la maturità e la gente giusto per capire che in questa fase della carriera cioè la fase in cui stai per decollare non sei ancora decollato ma sei proprio lì che stai per staccarti da terra la cosa più difficile è dire di no e dire di no perché quando dici no cioè poi magari quel teatro si offende perché non mi chiama più perché quella volta mi aveva chiamato io avevo rifiutato però in realtà è la cosa giusta da fare sia per non inflazionare evidentemente il mercato col proprio col proprio nome sia perché il fatto che lui possa far bene tutto non vuol dire che abbia pronto tutto evidentemente perché altrimenti ha 28 anni ne ha di cose da studiare e ne ha di cose da fare per cui il mio auspicio è veramente che per dare il balzo veramente determinante la sua carriera sia abbastanza intelligente da rifiutare le cose per cui non è non pronto prontissimo stra pronto però quindi che rifiuterà tutti quei ruoli per cui non dovesse presentarsi veramente alla prima prova col coltello fra i denti se farà questa cosa e se saprà preservare anche il mezzo vocale perché io ho visto tanti cantanti dotati rovinarsi la voce a 30 anni o poco più perché comunque insomma i viaggi le cose avete presente il la classica immagini pavarotti che vediamo sempre con la sciarpa cioè quella non era come dire un'affettazione un'ostentazione per fare come si dice a milano il depur era per preservare lui aveva lo strumento in gola e preservava lo strumento esattamente come uno che c'è un violino di luteria importante non lo porta in giro così in un sacchetto di plastica ma lo mette nella custodia con l'igrometro per preservare dalle botte eccetera eccetera e la voce non è tanto diversa da questa roba qui quindi va preservata va preservata facendo attenti che si finisce tardi la sera e quindi poi si va a mangiare tardi e si magari si mangia magari si beve magari si fuma o se non si fuma si respira il fumo degli altri ecco il cantante ovviamente è chiaro che è difficile che faccia vita monacale questo credo che nello stereotipo che viviamo nel cantante vediamo pochi san francesco d'assisi per cui ci sta che il cantante insomma faccia una vita anche di relazione con la vita sociale con gli altri colleghi con il direttore anche perché poi insomma queste sono anche relazioni che ti portano a cementare certi rapporti e quindi poi magari portarli dalla fase professionale a quella magari personale un domani magari il direttore artistico ti chiamerà perché oltre a sapere che sei un bravo professionista ti conosce gli sei simpatico sa che non rompi le scatole che sei uno che non dà problemi sul palco e insomma anche questa cosa ovviamente è molto importante per cui ripeto ascoltatevi qualcosa tenete presente che trovate già su youtube delle sue registrazioni tenete presente che sono registrazioni di qualche anno fa di due tre anni fa e insomma sono stati due o tre anni in cui la sua voce è molto cambiata e molto evoluta e molto maturata lui adesso a 28 anni ha già un bel colore un bel timbro che certi cantanti raggiungono a 35 anni o anche di più insomma ecco quindi io spero veramente che Lodovico sappia gestirsi sappia dire i giusti no sapendo io in primis quanto è difficile dire di no io che dirò ne ho detto mi credo in vita mia però per un cantante è un po' diversa la è un po' diversa la situazione e quindi un enorme in bocca al lupo a Lodovico Filippo Ravizza se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale lasciate un like lasciate un commento se volete dire la vostra in proposito se avete piacere iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video non mancate